L'allenatore del Monza Raffaele Palladino analizza la sconfitta all'emblematico San Siro contro la potente Inter, uno sguardo approfondito alla partita. Ciao famiglia Nerazzurra, bentornati sul nostro canale di notizie. Soddisfatto della partita contro il Monza? È stata una partita spettacolare! Iscriviti al canale se non l'hai già fatto, così rimarrai aggiornato sui prossimi aggiornamenti della squadra Nerazzurra. Palladino ha scrutato la sconfitta subita nella nostra casa di calcio, San Siro. In una fascinante intervista a Sky Sport, ha esordito sottolineando la formidabile potenza dell'Inter, una forza della natura in campo, guidata da un allenatore straordinario e composta da giocatori che irradiano magnifiche personalità. Ha elogiato il coraggio della nostra squadra, sottolineando che siamo rimasti impegnati nella partita per ben 70 minuti. Tuttavia, Palladino ha notato che due gol feroci hanno colpito le nostre reti, derivanti dalla nostra stessa costruzione del gioco. È interessante notare che di solito padroneggiamo magistralmente questi aspetti, ma il calcio a volte è un maestro capriccioso. Le parole del tecnico sono echeggiate con sincerità e dedizione. Queste partite, amici, sono finestre di opportunità, che ci permettono di intravedere la nostra condizione, identificare i nostri bisogni e capire le aree in cui dobbiamo migliorare. Queste partenze monumentali, ha spiegato, forniscono uno specchio cristallino in cui il nostro team può riflettere e far progredire la conoscenza. In un'analisi più approfondita, Palladino ha discusso la nostra pianificazione strategica per il calciomercato. Ha sottolineato che siamo in perfetta sintonia con la direzione del club, riconoscendo la necessità di rafforzare il nostro centrocampo e la nostra linea di attacco per elevare la nostra qualità a nuovi livelli. Mostrando un sincero affetto per la sua squadra attuale, l'allenatore ha ribadito che il percorso di progresso tracciato lo scorso anno continua a plasmare il nostro futuro. Tuttavia, ha sottolineato che la ricerca dell'eccellenza richiede che lavoriamo instancabilmente per correggere i nostri errori passati. Palladino ha affrontato la possibile aggiunta di un nuovo talento alla nostra rosa. Il giovane e promettente Colombo, con una dose di entusiasmo, ha espresso il suo apprezzamento per il giocatore e ha indicato che il suo arrivo sarebbe stato accolto calorosamente. Tuttavia, ha ricordato che la competenza di Galliani è cruciale in questo processo di mercato e la sua fiducia è riposta nelle mani competenti del direttore. Come vede il giudizio del tecnico sulla partita contro l'Inter, le tue parole risuonano con le tue percezioni della prestazione di Monza? Lasciate le vostre opinioni nei commenti qui sotto. E forza Inter sempre!